caro bollette stangata insostenibile per le attività lavorative acquaroli rassegnato marche verso la zona arancione a pesaro l'ex carcere minorile si trasformerà in polo per l'infanzia dopo il trionfo su milano vl domani in trasferta a brescia buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 19 gennaio e apriamo questa edizione parlando del caro bollette in questi giorni infatti tutti stanno toccando con mano i fortissimi rincari delle utenze dei costi di luce e gas che sono davvero raddoppiati e stanno mettendo in ginocchio tante categorie lavorative della città ne abbiamo parlato quindi con davide ipaso segretario provinciale di confcommercio al quale si stanno rivolgendo tanti lavoratori vediamo sono delle bollette che sono inaccettabili in questo momento pesantissime abbiamo fatto un incontro con il sindaco due giorni fa nella quale noi abbiamo spiegato che cosa questo comporterà dal punto di vista proprio imprenditoriale è un momento peggiore ancora più del lockdown che abbiamo subito perché ci sono aumenti di 300 400 500 mille per cento energia elettrica e gas e questo che cosa comporta comporta che molti ristoranti hanno chiuso sono chiusi per ferie perché prima di tutto la gente non si muove per il super green pass e tutte le normative che ci sono state e per la positività che c'è in giro più queste bollette che stanno ammazzando le attività e non sappiamo come far fronte anche perché il governo farà dei ristori minimali e questi ristori sicuramente non aiuteranno le attività a sopravvivere Ecco, in contemporanea a questi rincari sono arrivati anche quelli dei rialzi di prezzi di alcune categorie, pane, prodotti da bar, pasticceria ma vogliamo far capire anche come questi balzelli non sono paragonabili a quelli che sono i costi che poi queste attività hanno Beh, guardando i social mi sono reso conto che l'opinione pubblica non ha capito che cosa vuol dire gestire un'attività molti stanno attaccando i nostri bar per gli aumenti del caffè e delle paste sono aumentate in maniera enorme le materie prime questo comporta anche l'aumento dei costi imprenditoriali per l'attività per rimanerci, per essere vivi, per poter vivere, sopravvivere uno deve rincarare, ma deve rincarare non per guadagnare per rimanere, per sopravvivere e questo molte persone non l'hanno capito sicuramente andare al bar a farmacolazione adesso costa di più però molti nostri baristi parlando hanno detto non sono in grado di poter resistere qualche panificatore ha dovuto chiudere perché purtroppo le materie prime erano avevano raggiunto dei costi difficilmente gestibili e accettabili e hanno scelto il meno peggio, ossia la chiusura e quando io sento che un imprenditore chiude perché è l'unico modo per resistere vuol dire che abbiamo il fallimento dietro l'angolo io mi auguro che il 2022 sia migliore però ricordiamo soltanto che il 2022 è l'anno dei pagamenti ciò che noi abbiamo messo da parte con i fidi, con i mutui presi negli anni precedenti dobbiamo pagare nel 2022 oltre a quello ci arrivano le bollette così io non so che cosa succederà Dalle bollette passiamo al Green Pass ricordiamo infatti che da domani cambia l'accesso ad alcuni servizi dal 20 gennaio è infatti previsto che da parrucchieri, barbieri e centri estetici si possa andare solo se muniti di Green Pass è sufficiente quello base senza bisogno quindi della certificazione rafforzata dal primo febbraio invece il Green Pass base servirà anche per accedere a uffici pubblici, banche e servizi postali e purtroppo le Marche passeranno da zona gialla zona arancione forse già lunedì 24 gennaio o al massimo lunedì 31 gennaio e quanto anticipato oggi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ai margini dell'odierna seduta del Consiglio regionale per il governatore il cambio di colore è ormai inevitabile secondo gli attuali parametri che vedono i dati di ospedalizzazione da contagio al 22% di saturazione delle terapie intensive e al 29% di aria medica salvo improvvise inversioni di tendenza le Marche sono destinate a nuove limitazioni e venerdì si capirà se il provvedimento riguarderà già la prossima settimana e chiaramente noi vi terremo informati su quanto accadrà i prossimi giorni intanto andiamo a vedere i contagi di oggi nella regione Marche perché si attestano a 5.850 casi positivi di cui 1.494 nella provincia di Pesaro Urbino dati ancora altissimi ai quali fanno da contraltare i poco più di 600 casi che presentano sintomi di fatti anche oggi 9 contagiati su 10 risultano asintomatici calano le terapie intensive che passano da 59 a 55 unità ma i ricoveri totali crescono di 2 unità passando a 349 pazienti in degenza nelle Marche sempre alto il numero dei decessi di questi giorni anche oggi se ne contano 8 nelle Marche di età compresa fra i 70 e 98 anni ed ora cambiamo argomento ieri ci siamo occupati della rinuncia del comune di Pesaro ad ospitare i Mediterranean Beach Games in seguito ai costi lievitati per ospitare la Kermess internazionale una rinuncia dal sapore dell'occasione mancata secondo i consiglieri di centrodestra che presenteranno una seconda interrogazione per capire se dal 2020 ad oggi il comune abbia comunque investito fondi per una manifestazione di fatto irrealizzata ne abbiamo parlato quindi oggi con Giulia Marchionni una dei nove consiglieri comunali che ha interrogato il sindaco su questa vicenda noi ci siamo resi conto a fine 2021 che nella legge di bilancio della regione Marche era prevista una missione per 300 mila euro destinati proprio ai Mediterranean Beach Games abbiamo voluto come centrodestra unito quindi prima Cepesaro, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia presentare un'interrogazione per capire a che punto fossimo con la programmazione e abbiamo scoperto direttamente le parole del sindaco che non si faranno più che nel 2023 quell'evento che era stato annunciato dal sindaco come una piccola olimpiade di fatto verrà a mancare lui ci ha detto che in realtà non è più una manifestazione così evocativa non ci saranno così tanti turisti come si credeva in realtà delle due o l'una o è una grande occasione come una piccola olimpiade o invece non è nulla più che un piccolo evento al di là di questo ci dispiace perché è un'occasione persa e perché per l'ennesima volta abbiamo dimostrato di non saper mantenere un impegno e ci dispiace anche nei confronti degli altri enti che sono stati coinvolti perché la regione Marche ha messo a bilancio quella somma che in spesa corrente tutto sommato non è una somma secondaria perché 300 mila euro sono fermi immobili lì fino al prossimo scostamento di bilancio per cui è una somma che la regione ha impegnato e che di fatto non serviva più ci siamo chiesti per quale motivo l'amministrazione comunale non abbia comunicato se non altro agli enti con cui stava collaborando quindi la federazione quindi la regione che non aveva intenzione di procedere ci dispiace perché agli occhi dei cittadini sicuramente è un'occasione persa e anche una brutta figura ecco dal punto di vista del sindaco c'è una sorta di risparmio di risorse reputate eccessive ma ci si chiede su una manifestazione che comunque ha iniziato un suo iter nel 2020 per arrivare al 2023 se ci sono stati dei capitoli di spesa già investiti da parte dell'amministrazione sì era il mi pare l'ottobre 2020 quando l'assessore della Dora annunciava che avrebbe avviato un bando di 1000 euro proprio per trovare il logo giusto che come città avremmo potuto inserire in questi Mediterranean Beach Games e quindi avrebbe consentito a dei creativi della città di partecipare in cambio appunto di questa somma che sarebbe andata al vincitore ora presenteremo un'altra interrogazione per capire se quel bando ha avuto corso e se quelle risorse sono state spese perché qualora così fosse sarebbe un grave danno non solo all'immagine della città ma anche alle casse del comune ed ora andiamo ad occuparci di opere pubbliche perché finalmente si muovono passi concreti per la riqualificazione dell'ex carcere minorile le modalità con cui verranno investiti i fondi in arrivo dal PNR e dal comune di Pesaro sono state un tema trasversale alle 7 ore di lavori degli stati generali di midterm tenutisi lo scorso sabato fra il teatro sperimentale e i palazzi del centro cittadino fondi da gestire e da calibrare su tante opere pubbliche che potrebbero strizzare l'occhio ad un vecchio piano di recupero edilizio tuttora incompleto quello dell'ex carcere minorile ad angolo fra via della Robbia e via Bertozzini ovvero a cavallo fra centro e mare ex discolato che ora potrebbe passare dalla sua memoria storica di luogo di reclusione alla novità dell'essere punto di riferimento per la crescita dei bambini della città L'ultima strategia concertata in queste settimane con il sindaco, con la giunta e con la provincia che hanno dato la disponibilità era quella di ridestinare, ridefinire quella che era il piano terra pensando a un vero e proprio polo dell'infanzia quindi un polo 0,6 anni e al tempo stesso però candidarlo per ottenere delle risorse dei finanziamenti da parte del PNRR all'interno quindi del filone del polo dell'infanzia ma al tempo stesso riqualificando tutto il contenitore quindi avremo un edificio a posto dal punto di vista sismico dal punto di vista statico dal punto sotto il profilo funzionale che avrà una destinazione al piano terra a polo dell'infanzia ai piani superiori invece con spazi pubblici che poi andremo a definire Una rimodulazione in senso educativo che arriva ad un anno dall'accordo sul recupero dell'edificio diviso al 50% fra comune e provincia e a tre anni dalla messa all'asta dello stabile su base di 675 mila euro un'asta che però andò deserta e senza acquirenti ora invece una svolta pubblica in un suggestivo progetto con attività d'accompagnamento dal nido alla scuola materna Spazio ad alcune opportunità lavorative l'Unione Pian del Bruscolo bandisce infatti un concorso per cercare 5 nuovi agenti di polizia locale il bando è scaricabile dalla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Unione i candidati possono inoltrare domanda entro il 14 febbraio ci sono anche opportunità di servizio civile universale con il comune di Pesaro che tramite l'assessorato alle politiche giovanili di Aidi Morotti cerca 9 operatori fra i 18 e 28 anni per progetti legati al verde alla tutela ambientale e all'inclusività i progetti saranno della durata compresa fra gli 8 e 12 mesi con una media di 25 ore settimanali di volontariato si può inoltrare domanda entro il 26 gennaio dall'indirizzo internet domanda online.serviziocivile.it è davvero un momento di rinascita per le montagne della nostra provincia che dopo due anni di stop al turismo invernale stanno invece vivendo in questi primi weekend di gennaio un maxi afflusso di visitatori è il caso del Monte Catria che si prepara al secondo fine settimana di apertura degli impianti di risalita La nevicata di due weekend fa ha soleticato grandi appetiti verso le montagne della provincia di Pesero-Urbino lo sanno bene al Catria dove sabato e domenica scorsa a Frontone centinaia di persone sono confluite anche dalla costa pesarese-fanese per un afflusso che ha fatto partire di slancio la stagione dei rinnovati impianti del Catria Finalmente la stagione è ripartita dopo due anni di fermo e abbiamo avuto praticamente sold out qui al Monte Catria in quanto le nuove novità la seggiovia Travarco che ci ha permesso di aprire le sei nuove piste che sono state ammodernate e messe in sicurezza per un totale di 12 km chiaramente tutte queste novità hanno richiamato un grande pubblico per i bambini avevamo già una grande offerta in quanto il Monte Catria è l'unico monte che possiede un parco tematico a 1400 metri il Kinderland Adventure Park dove dentro i bambini possono usufruire di una pista da bob una pista da tubing cavalcioni salta salta e altri giochi Ora qualche giorno di chiusura degli impianti fino a sabato guardando se il meteo strizzerà l'occhio ad un altro weekend di esodo verso le cime innevate Allora noi abbiamo già ripreparato tutte le piste oggi come vedete io sono dentro il rifugio perché abbiamo preparato le piste per la prossima nevicata che speriamo che arrivi intorno a giovedì o venerdì il fondo è ancora buono quindi basterebbe anche poca neve per poter preparare il prossimo weekend Tanta gente ha significato però anche altrettante difficoltà nel gestire un grande afflusso che inevitabilmente ha creato code di macchine e code agli impianti difficoltà difficoltà che sono chiaramente legate anche un pochino alle nuove normative anti-covid in quanto oltre che il numero di grandi partecipanti ci si mette anche alla questione del distanziamento quindi questo provoca delle code sia al noleggio sia alla salita della cabinovia e poi alla discesa piuttosto che quando uno entra al rifugio per mangiare e consumare qualcosa anche perché le novità che ci sono quest'anno si sono aggiunte a quelle degli anni precedenti due anni fa abbiamo inaugurato la nuova seggiovia triposto e tre anni fa abbiamo inaugurato la cabinovia chiusa che parte da Caprile e arriva fino in cima qui al monte Catria con la comodità di non doversi arrampicare con la macchina in cima alla montagna praticamente quindi non ci sono problemi di montaggio di catene o che altro la domenica pomeriggio sul Catria è anche registrato il fuori programma di un guasto tecnico alla cabinovia durato una ventina di minuti che Oradei spiega così abbiamo avuto un fermo di 20 minuti circa 20 minuti e dovuto al fatto che una scheda e un fusibile si sono bruciati chiaramente il tempo non è servito per cambiare i fusibili che si cambiano in pochissimo tempo ma ci è servito per andare a controllare la linea per fargli partire l'impianto in massima sicurezza quindi una squadra da valle e una da monte sono partite per andare a vedere in linea visto che era buio se tutto era posto per fare in modo che i visitatori potessero viaggiare in massima sicurezza da domani 20 gennaio a Fossombrone scattano multe da 100 euro per i padroni di cani che verranno sorpresi a non pulire le deiezioni dei loro amici a quattro zampe a deciderlo è un'ordinanza del sindaco Massimo Berloni per salvaguardare il decoro della città e in particolare dei portici di Corso Garibaldi l'ordinanza prevede che i padroni di cane debbano avere con sé paletta sacchetto e almeno mezzo litro d'acqua per pulire le deiezioni canine ed ora parliamo di alcuni appuntamenti a teatro cominciando dalla musica dell'ente concerti che sabato allo sperimentale avrà il suo secondo appuntamento della stagione con l'oboe di caratura internazionale di Francesco Di Rosa in concerto al fianco dell'orchestra filarmonica marchigiana diretta da Jacopo Rivani primo appuntamento del 2022 invece per la stagione teatrale della piccola ribalta che domenica 23 alle ore 17 nel teatro di via dell'Acquedotto ospita Erinni di Gianfranco Loffarelli spettacolo vincitore della rassegna Marche Inatti quest'anno il carnevale di Pesaro si annuncia già in formula ridimensionata intanto però il comune ricorda il periodo carnevalesco in arrivo posizionando la testa di cartapesta di Gioacchino Rossini al centro della rotatoria di Largo Ascoli Piceno in zona Tombaccia la testa di Rossini è parte del carro allegorico La Calunnia un venticello che fu realizzato dal maestro carrista fanese Pierluigi Piccinetti nel 2018 in occasione del 150esimo anniversario della morte di Rossini L'installazione si trovava depositata al centro operativo del comune che ha deciso di posizionarla in questo luogo di transito cittadino destando la curiosità di tanti passanti Ed ora passiamo allo sport perché dopo la strepitosa vittoria su Milano la Carpegna prosciutto basket Pesaro torna in campo domani sera a Brescia recuperando il match rinviato lo scorso 9 gennaio a seguito dei casi di positività al Covid-19 fra le due squadre VL attesa da uno sforzo enorme con due trasferte in quattro giorni fra Brescia e Milano come ha spiegato coach Luca Banchi nella conferenza stampa prepartita di oggi che vi proponiamo con alcuni estratti L'anomalia della settimana con il doppio turno non aiuta perché ci aspettano due trasferte questo non ci dà modo e tempo di lavorare in palestra e allenarci per ripristinare una condizione che anche la partita di domenica ha palesato essere approssimativa per quanto apprezzabile sforzo possa esserci stato era chiaro evidente che non avessimo le energie consuete per giocare 40 minuti a quel livello di intensità abbiamo recuperato in allenamento Simone Zanotti che è sicuramente un'addizione importante ma ripristinare la condizione è qualcosa che dovremo rimandare alla settimana successiva sarà determinante l'approccio sotto il profilo fisico e mentale ma sarà altrettanto determinante la capacità di recupero da sforzi di questo tipo io penso che l'ultima gara casalinga con Milano porti in dote molto in termini di euforia di consapevolezza ma al tempo stesso tolga in termini di condizione perché offrire una prestazione del genere in un momento di tale difficoltà inevitabilmente determina anche uno spreme spreme ogni giocatore più di quanto fosse lecito immaginare le insidie sono legate appunto allo stato di forma dei nostri avversari all'alto rendimento che stanno garantendo soprattutto nell'ultimo periodo e in special modo nelle gare casalinghe dove hanno avuto vittorie larghe brillanti con momenti di esaltazione cestistica che noi dovremmo essere bravi a contenere non una partita semplice né nella lettura né nella sua interpretazione quindi per noi sarà determinante fare delle valutazioni al termine di questa doppia sfida di campionato per capire quale capacità abbiamo veramente di metabolizzare sforzo e informazioni è la prima volta dall'inizio dell'anno che giochiamo gare così ravvicinate quindi è un buon test per tutti ma dal quale è importante raccogliere indicazioni ma altrettanto importante raccogliere vittorie quindi non sarà semplice sono tante le insidie basta come detto toccare il cammino che Brescia ha avuto nelle ultime giornate soprattutto nelle gare casalinghe il fatto che abbiano due dei top quattro realizzatori del campionato cioè questo già dà un'indicazione importante il miglior realizzatore e il quarto miglior realizzatore del campionato che siano secondi nel campionato come numero di tiri da tre punti quindi cioè ci sono tanti aspetti che fanno capire le difficoltà che incontreremo una squadra ben allestita che adesso sta trovando anche quell'identità e quella coesione che forse ancora non avevano saputo trovare a inizio stagione ma che adesso gli permette di giocare un basket molto piacevole ed estremamente efficace e chiaramente in vista di queste prossime partite del basket in modo particolare di quella di domani insieme a Canestro la puntata di domani non ci sarà e quindi ci rivedremo con insieme a Canestro appunto la prossima settimana torniamo in diretta con insieme a Canestro giovedì 27 gennaio proprio perché domani sera era praticamente impossibile fare la diretta del programma perché tutti i tifosi guarderanno la partita appunto della Carpegna prosciutto e poi andiamo con la prima serata di questa sera perché questa sera torna una nuova puntata di Qua la Zampa alle 21 e 20 non perdetevi Giacomo Lucchetti con la sua cagnolina e insieme anche Antonio Astuti perché parleranno di tante notizie riguardanti il nostro territorio e non solo notizie legate proprio ai nostri amici animali e poi vi ricordiamo che a partire da questa domenica siccome siete stati in tanti a chiederci la possibilità di vedere le messe in diretta ebbene vi abbiamo accontentato grazie chiaramente alla Diocesi di Pesaro grazie all'Arcivescovo Piero Coccia che ci dà la possibilità di riprendere le varie messe nel nostro territorio e faremo inizieremo un lungo tour nelle varie chiese della nostra provincia e partiamo dal Santuario del Beato Sante quindi domenica 23 gennaio avrete la possibilità sul canale 633 e anche sulla nostra pagina Facebook alle ore 11 di vedere in diretta la Santa Messa ho detto davvero tutto carissimi amici io vi auguro buona serata rimanete collegati su Rossini TV noi invece ci rivediamo domani mattina in diretta alle 7.20 per il nostro Buongiorno Rossini grazie a tutti